Che ne pensi, Emisha? Sei pronto a metterti una maschera tutta tua? No, bello. Preferisco rimanere un libero professionista. Questo posto non ha abbastanza trappole esplosive, ma sono contento che collaboriamo. Non so chi altro avrebbe avuto le palle di affrontare Cass. Di sicuro Albion soffrirà la perdita del suo leader psicopatico. Ma fidati, non alzeranno bandiera bianca facilmente. Spero che il Dedsec possa continuare a lottare. Guarda un po' chi se la fa con dei delinquenti barra terroristi. L'ispettore Lau. Benvenuta nel nostro rifugio. Sono un essere umano e abbiamo molto da festeggiare. Cass ha avuto quello che si meritava. E senza Mary e Kelly sono diventati meno spavaldi. Grazie al Dedsec, i cattivi di Londra non se la passano bene. E finché la polizia non ritroverà le palle, io starò col Dedsec. Ehi Naut, ti prendi una vacanzina dai contratti sul Dark Web? È una pausa meritata. Da quando lavoriamo insieme, i poteri forti ci pensano due volte a scherzare con Londra. Vedendo cos'è successo a Cass, se la fanno sotto tutti. La ruota sta girando. Continuate a combattere e sarò con voi. A più tardi. Sei grande. No, tu di te. No, tu. No, tu. C'è qualcosa da ridere, super spia? Illuminami. E perdermi tutto il divertimento? Ti do un indizio. Voce sinistra, aspetto sgargiante, nome a effetto. O vi siete scordati che di fatto non avete trovato Zero Day? Avete indagato su Albion, sul Sears, sui Kelly e anche su Sky Larson. Non avete mai pensato che invece di cercare fuori, dovreste cercare dentro? Abbiamo un problema. Dobbiamo parlare. Odio fare il guastafeste, ma sembra che ci sia un ospite indesiderato nella rete del Betsec. Sta scaricando tutta la tecnologia che abbiamo acquisito in una partizione remota nominata a Dura Britannia. Ma che cazzo? Betsec, noi siamo Zero Day. Ci siamo già incontrati, in un'altra vita. A questa città serviva un nemico, e voi eravate perfetti per la morte. Ora, ve ne tocca un'altra. Per quanto ce l'abbiate messa tutta per salvare questa città, ci avete armati per la prossima guerra. Ma... non ci è sempre dato conoscere il nostro ruolo. E a volte, a giochi fatti. Non resta che morire. Quell'hacker di Zero Day si è rubato la nostra roba. Se fossi un IA crudele e insensibile, ne approfitterei per ricordarvi che vi avevo avvisati sulla pericolosità di Zero Day. Bugs, devi localizzare quel segnale. Non riesco a risalire all'origine dei comandi, ma l'admin ha ottenuto accesso al drive da un range di IP dedicato ai veicoli autonomi. L'ho geolocalizzato, consiglio di andare a fargli visita. L'ho geolocalizzato, consiglio di andare a fargli visita. L'ho geolocalizzato, consiglio di andare a fargli visita.